Partita giocata con carattere da Lisernia che supera il quotato notaresco per una reta zero. All'inizio della gara i tifosi hanno steso uno striscione per contestare Albino Fazio che domenica volutamente ha messo fuori il calcio di rigore che l'arbitro aveva sbagliato da assegnare alla formazione biancoceleste, anche se i tifosi storici hanno premiato con una targa il giocatore. La partita ha visto un primo tempo sostanzialmente passare senza grandi sussulti, anche se Lisernia ha puntato molto alla vittoria. Secondo tempo invece alla grande dei biancocelesti che hanno più volte cercato la porta avversaria. E al venticinquesimo Mister Silva manda proprio Albino Fazio in campo. Dopo tre minuti i pentri vanno in vantaggio con Romano che insacca la sinistra del portiere avversario. Al trentanovesimo Lisernia ha la clamorosa azione per raddoppiare, ma Schena colpisce il portiere in uscita. Solo nei minuti di recupero il notaresco si fa pericoloso colpendo la traversa, poi più nulla. Una vittoria scaccia crisi quella dell'Isernia che mette tre punti preziosi in classifica contro un notaresco che velegge in testa la gradatoria.